Eccoci qui con un'altra puntata del nostro percorso di filosofia. Spinoza, come abbiamo visto nelle precedenti puntate, è stato molto criticato dalla Chiesa Cattolica per le sue idee panteistiche e in questa video-lezione approfondiremo proprio questo aspetto. Ho volutamente realizzato una lezione un po' più lunga del solito, perché a mio parere ci sono diversi concetti che vanno affrontati insieme, come un puzzle a cui appunto aggiungere di volta e volta i pezzi. Iniziamo! Per poter capire bene la filosofia di Spinoza è fondamentale ripassare il dualismo cartesiano, che abbiamo visto essere composto da una parte, dalla res extensa, cioè il corpo, e dall'altra parte dalla res cogitans, cioè il pensiero, che sono appunto due sostanze distinte. Anche per Spinoza queste due sostanze sono distinte, anche perché la causa di un corpo è sempre un corpo e la causa di un'idea o di un pensiero è sempre un'idea, un pensiero. Quindi non c'è un corpo che causa un'idea e non c'è un'idea che causa un corpo. In sostanza, non esiste un rapporto di causa-effetto tra corpo e pensiero, però esiste una corrispondenza bionivoca, un parallelismo tra res cogitans e res extensa, proprio perché il corpo è l'aspetto esteriore della mente, mentre la mente è l'aspetto interiore del corpo. Questo concetto è maggiormente comprensibile attraverso l'esempio di un'emozione. Un'emozione viene percepita dal nostro corpo attraverso delle modifiche fisiologiche, ma viene anche percepito e compreso dalla nostra mente, dal nostro pensiero. Ecco che quindi uno stesso stimolo, l'emozione di paura per esempio, viene espresso sia dal corpo che dalla mente. Questo parallelismo psicofisico è una modalità diversa di concepire il rapporto che c'è tra psiche e corpo, ed è diverso dal concetto cartesiano della ghiandola pineale e dal materialismo di Hobbes, che vedremo presto appunto nelle nostre video-lezioni. Chiarito questo punto, arriviamo alla questione fondamentale per cui Spinoza è stato criticato dalla Chiesa Cattolica, e inizio a spiegartelo con questo estratto dall'etica, che dice Sia che concepiamo la natura sotto l'attributo dell'estensione, sia che la concepiamo sotto l'attributo del pensiero, o sotto un qualunque altro attributo, troveremo un solo e medesimo ordine, o una sola e medesima connessione di cause. Per Spinoza esiste quindi un solo ordine dell'essere, che rappresenta un ordine geometrico, matematico dell'essere. E questo unico ordine dell'essere, questa unica sostanza, è Dio. Non è la res extensa o la res cogitans, Dio è l'unica sostanza. Invece Cartesio aveva messo tre sostanze, Dio, ma aveva messo anche la res cogitans e la res extensa. Queste ultime due erano concepite da Cartesio come sostanze seconde, come sostanze derivate da Dio, ma che sono anche autonome, autosufficienti. In questo Cartesio non è stato molto chiaro, perché fa dipendere l'esistenza della res cogitans e della res extensa da Dio. Ma allo stesso tempo sostiene che una sostanza è autosufficiente, o se non ha bisogno di nient'altro per esistere. Ma arriviamo al pensiero di Spinoza, che partendo proprio dalla concezione cartesiana, se ne distacca completamente, sostenendo che la sostanza è ciò che è in sé e per sé si concepisce, vale a dire ciò il cui concetto non ha bisogno del concetto di un'altra cosa da cui debba essere formato. Fermiamoci un attimo, capiamo bene questa frase di Spinoza, analizzandola per punti. Iniziamo con il pezzo ciò che è in sé, che indica che la sostanza per Spinoza è autosufficiente e autosussistente, ossia la sostanza è autonoma e non ha bisogno di altri esseri per esistere. Poi passiamo al secondo pezzo, per sé si concepisce. In questo caso Spinoza intende dire che, se la sostanza è autosufficiente e autosussistente, è un concetto che per essere pensato non ha necessità di avere altri concetti. La sostanza è quindi per Spinoza autonoma, sia dal punto di vista ontologico, dell'essere quindi, sia dal punto di vista concettuale, e possiede delle proprietà, che sono il fatto di essere increata, ossia la sostanza non è stata creata da nessuno, perché è causa sui, ossia è un ente la cui essenza implica l'esistenza. Inoltre la sostanza è eterna, unica, non ce ne sono altri uguali, e ovviamente infinita, perché se fosse finita dipenderebbe da un'altra sostanza. E qual è l'unica sostanza che può essere autosufficiente, autosussistente, increata, eterna, unica e infinita? Beh, per Spinoza è sicuramente Dio, che è l'unica cosa di cui il filosofo è certo, più ancora di tutte le realtà che vede con gli occhi e che percepisce con i sensi. Quindi abbiamo una differenza rispetto agli empiristi a Cartesio. Gli empiristi hanno come certezza le cose sensibili, che percepiscono proprio con l'esperienza. Cartesio ha come certezza il pensiero, invece il cogito ergo sum, mentre Spinoza ha come certezza assoluta Dio. E sull'esistenza di Dio, Spinoza accetta le prove tradizionali, costituite dalla prova ontologica o a priori e dalla prova a posteriori. La prova ontologica o a priori implica che Dio è causa sui e quindi non può non esistere. E questo è appunto a priori. A posteriori invece prende in causa l'essere umano, che esiste perché necessariamente c'è una sostanza increata, eterna, infinita, che essendo appunto causa sui, cioè la causa di se stessa, è anche la causa di tutto il resto. Ma qui arriva il punto focale, motivo della forte critica della Chiesa. Secondo Spinoza, Dio coincide con la natura. Guarda questo cerchio. Questo cerchio è Dio e tutto ciò che esiste è dentro questo cerchio, non c'è niente al di fuori di esso. Quindi la natura è dentro questo cerchio, secondo Spinoza, e quindi Dio coincide con la natura. Come dice lui, Deus Sive Natura, che vuol dire Dio, ovvero la natura. Tutto ciò che è, è in Dio, e senza Dio nessuna cosa può essere concepita. Una domanda adesso sorge spontanea, magari te la sei già fatta. Ma quindi, se Dio e la natura coincidono, e Dio è eterno, increato, infinito e unico, lo è di rimando anche la natura. Questa è una forma di panteismo, ed è proprio questa concezione che è stata molto criticata. Ma andiamo avanti ad aggiungere un altro tastello al nostro puzzle. Per spiegare al meglio la relazione tra Dio e il mondo, Spinoza utilizza due concetti importanti, quello di attributo e quello di modo. L'attributo, come suggerisce la parola, è una qualità dell'essenza o della struttura della sostanza. E, se la sostanza è infinita, saranno infinite anche i suoi attributi. E noi esseri umani ne conosciamo solo due di questi attributi, l'estensione e il pensiero, ossia la famosa res cogitans e la famosa res extensa. L'estensione è la res extensa e il pensiero è la res cogitans di Cartesio. Quindi, per Spinoza, l'estensione, cioè la res extensa, e il pensiero, cioè la res cogitans, non sono sostanze. Perché abbiamo detto che l'unica sostanza è Dio. Ma sono degli attributi della sostanza, delle qualità della sostanza. Quindi è come se dentro questo cerchio, che è Dio e quindi anche natura, ci sia un altro cerchio costituito dall'attributo dell'estensione, un altro cerchio costituito dall'attributo del pensiero, ma pur sempre dentro il cerchio più grande. Se gli attributi sono delle proprietà essenziali della sostanza, i modi invece sono delle modificazioni accidentali della sostanza, il riferimento all'attributo dell'estensione e all'attributo del pensiero, cioè in poche parole. I modi sono delle manifestazioni concrete degli attributi. Se gli attributi rispondono alla domanda cosa sono, i modi rispondono invece a come sono, come si manifestano, in che modo. I modi sono di due tipi, infiniti e finiti. I modi infiniti sono proprietà strutturali degli attributi e sono il movimento e la quiete, l'intelletto e la volontà, il mondo come totalità, i singoli corpi e le singole menti o idee. I modi finiti sono invece le modificazioni accidentali degli attributi, ossia gli esseri particolari, quindi quella mente, quel corpo, eccetera. E qui si inseriscono i due termini di natura naturante e natura naturata. La natura naturante è la causa di tutto, ossia Dio e i suoi attributi, mentre la natura naturata è l'effetto che è costituito da tutti i modi, ossia le manifestazioni concrete degli attributi. Quindi in sostanza la natura, se coincide con Dio, è sia madre che figlia di se stessa. Non c'è nulla al di fuori di Dio e quindi Dio non può creare qualcosa di diverso da sé, essendo lui tutto il cerchio, ma può modificare gli attributi che ci sono dentro appunto attraverso i modi. Questa concezione di Dio come sostanza unica porta con sé due critiche spinoziane. La prima nei confronti del finalismo, perché non esistono cause finali, proprio perché abbiamo visto che Dio è causa sui. Inoltre Spinoza critica l'antropomorfizzazione di Dio, ossia il fatto di attribuire sembianze caratteristiche fisiche e caratteriali di un uomo a Dio. Per esempio possiamo dire che Dio è un superuomo, che ama, che odia, che è buono, che si vendica e via dicendo. In realtà questo per Spinoza è il frutto di un'immaginazione superstiziosa e dobbiamo svincolarci da questa modalità appunto di concepire Dio. Ricapitoliamo velocemente questa lunga videolezione. Per Cartesio ci sono tre sostanze, Dio, la res extensa, cioè il corpo, e la res cogitans, il pensiero. Per Spinoza la sostanza è increata, eterna, unica e infinita. Solo Dio possiede queste proprietà e quindi Dio è l'unica sostanza. L'estensione, cioè la res extensa di Cartesio, e il pensiero, ossia la res cogitans di Cartesio, sono gli attributi della sostanza, cioè sono gli attributi di Dio. Secondo Spinoza Dio coincide con la natura in un'ottica panteistica. Se Dio è increato, eterno, unico e infinito, lo è di rimando anche la natura. La natura naturante è Dio e i suoi attributi ed è la causa di tutto. La natura naturata è invece l'effetto costituito dalle modificazioni accidentali degli attributi. Spinoza critica il finalismo perché non esistono cause finali, perché Dio appunto è causa sui. Spinoza, infine, critica l'antropomorfizzazione di Dio. Ti aspetto nella prossima puntata per parlare della concezione di etica secondo Spinoza.